ragazzi porco 2 mo la metto tanto io conosco i miei contro te non è che me danno copyright e invece invece mi spaccano la faccia direi che e dimmi che ci sei che farei ho pulito 8 titoli giocando da stamattina senza fermarci mai insieme a kira e re i tuoi cuccioli affettuosi proprio pazzi e noi mangerebbe tutto il giorno tira non dorme mai e se combini a guai non puoi mai dirgli niente perché gli occhi troppo dolci casa magica che un kira e rei ma è sempre tutto ok oh 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 kira e rei ma dimmi che ci sei oh 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 kira e rei a che farei senza kira e rei sono piccolini ma non lo sanno c'hanno c'hanno un cazzo così senza pensarci su cani grandi e grossi non fa paura la magica con kira e rei ma è sempre tutto ok oh 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 kira e rei e dimmi che ci sei oh 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 a che farei io senza kira e rei dietro trovo il vinto va bagliando al soffitto nascondersi per non lavarsi mai in ogni momento è quello buono per le coccole il vinto22 il vinto Ragazzi è convolgente, a me piace, infatti ho lasciato like Ma no, è per i bambini, ma c'è nel senso, va benissimo No ma va, va, ci sta, ci sta Ciao